Eccomi qua in trasmissione per la trasmissione Magia Stagonaria Paganesimo che va in onda da Radio Gama 5 tutti i giovedì dalle ore 15 alle ore 16 e 30 e dalle 19 alle 20. Questa sera appunto io proseguirò anche oltre l'orario normale delle 20 e andrò fino alle 22 e vedrò appunto come alternare la trasmissione, quali argomenti aggiungere, trattare, se ci sono cose ulteriori da aggiungere lascerò come sempre aperto il telefono tutte queste tre ore, vedrò appunto nelle due ore successive se mettere qualche stacco musicale sicuramente lo inseriremo perché abbiamo anche qualche richiesta di dedica vedremo di fare qualcosa di buono insomma di alto livello e anche per dare un po' di tempo agli ascoltatori di digerire un po' tutte le discussioni. Ecco io proseguo appunto nella tematica religiosa appunto perché questa è una trasmissione appunto che si rifà il paganesimo, che si rifà il politeismo e il paganesimo e il politeismo lo ripetiamo però sembra che non lo ripetiamo abbastanza visto anche con le considerazioni della trasmissione fatta dalle ore 15 alle ore 16 e 30 non è molto chiaro cosa si intenda per paganesimo e per politeismo. Certo le persone sono state condizionate in maniera molto forte, fortissima, quasi in maniera irrimediabile nel pensare che l'unica realtà possibile dal punto di vista religioso, definiamolo così perché è un termine che il monoteismo, il termine religioso lo ha imposto per secoli e per secoli il paganesimo più che altro è vita, è contatto con la realtà, è contatto con quello che ci circonda il paganesimo non ha consetti di dogmi, non ha fedi, non ha libri sacri, non ha imposizioni non ha problemi di verità, di falsità, sa che tutte quante le cose fondamentali sono le vite in realtà le persone che si rifanno il monoteismo pensano di rifarsi il monoteismo perché è la visione migliore ma in realtà è una visione imposta. Allora queste persone purtroppo sono state condizionate, dicevamo anche prima in maniera pesante, pesantissima da quello che il monoteismo ha voluto far credere. In realtà le persone sono anche molto sensibili. Allora vogliamo dare una dimostrazione scientifica, concreta, immediata di come agito anche il monoteismo. Allora una recente scoperta, non chiamiamola scoperta, una recente ricerca scientifica, infrasuoni possono cambiare l'umore. Le orecchie umane sono in grado di percepire suoni compresi appositivamente tra i 20 e i 20.000 Hz. Al di sotto dei 20 Hz siamo negli infrasuoni che sebbene non possono essere uditi si percepiscono sotto forma di vibrazione. Ora in Gran Bretagna si stanno studiando i loro effetti sulle emozioni e i loro utilizzi per la scienza. Wiesmann di Erfurtshire University ritiene che queste vibrazioni si sentono soprattutto nello stomaco e possono sollevare l'umore di chi ne viene colpito o determinarli un disagio in funzione dell'ambiente in cui avviene questa esperienza. Il fenomeno intuito nel passato era stato utilizzato dai costruttori di organi per le chiese già 250 anni fa per creare un senso di timore riverenziale nei fedeli. E questa è una notizia scientifica, è una notizia concreta. Cosa abbiamo qui? Abbiamo un'intuizione, una scoperta scientifica, un problema di concreto che non viene utilizzato per migliorare l'esistenza delle persone, la qualità della loro vita, la cultura, l'ambiente, il genere musicale. No, viene utilizzato in maniera appunto da condizionare, da creare paura, da creare condizionamento. E questa ricerca fatta in Inghilterra dice che questo punto dipende anche dall'ambiente e dalle circostanze in cui questa cosa avviene. L'organo in sé, come strumento musicale, non è certo uno strumento di imposizione o che crea paura o venerazione. Il problema è del contesto in cui ne andiamo a inserire. E allora cosa fanno i monoteisti? Bombardano per secoli le persone di timore, di paure, di fobie, di spaventi, di tentazioni, di minacce, di angosce. E quando qualcosa si profila o si intuisce, 250 anni fa, si intuisce che l'organo ha un condizionamento, non si spiega il per come, il perché questo avvenga, però si sa che si riesce a modificare l'umore dei fedeli. E allora all'interno delle chiese, all'interno di edifici consacrati al culto della morte che impongono la morte, si viene a utilizzare uno strumento che in sé non è né negativo né positivo, non è né vero né falso, ma è uno strumento, è uno strumento musicale e frutto della genialità, dell'invenzione delle capacità tecniche delle persone viene utilizzato appunto proprio per creare disagio e non per rendere felici le persone. Bene, capite che 250 anni fa questa cosa è stata intuita, è rimasta segreta, benissimo, pensate alle generazioni che ne sono passate in 250 anni, che hanno avuto questo rimuore reverenziale, questo disagio nelle chiese, pensavano che fosse la potenza di Dio, un Dio che non è mai esistito e che mai esisterà, pensava che fosse il messaggio del criminale di Gesù Cristo avevano paura, avevano terrore, in realtà era un'intuizione scientifica che generava questo. E questo punto bisogna comprenderlo, perché questo non è che sia avvenuto per caso, cioè quelli che hanno intuito questa cosa, perché l'hanno utilizzata così? Perché avevano avuto l'insegnamento del criminale di Gesù Cristo che li insegnava a dominare, a terrorizzare il mondo, a imporsi sul mondo e di conseguenza qualsiasi strumento, qualsiasi cosa veniva utilizzata per creare questa venerazione. Un'altra cosa che poi assistiamo in maniera molto curiosa e molto fantasiosa, frutto anche ultimamente delle pazzie, delle follie, delle stupidaggini alle benigni televisive con l'inferno, è il pensare che prima del criminale Gesù Cristo gli uomini fossero dei selvaggi, fossero qualcosa di insopportabile, di animalesco, fossero veramente delle bestie e di conseguenza certi principi, certi valori, certi benefici, certi comportamenti si fossero raggiunti soltanto dopo l'avvenuta di questo messia criminale. Benissimo, cosa fanno queste persone? Queste persone riducono l'esistenza dell'umanità, della nostra cultura, della nostra civiltà a duemila anni. In realtà duemila anni non sono niente. Perché non sono niente? Perché noi sappiamo che la vita dell'uomo su questo pianeta è qui da milioni di anni e milioni di anni la cultura, la civiltà, le comunità non hanno prodotto il monoteismo. Perché? Perché avevano in sé la forza. Pensate, noi abbiamo della nostra antichità, della nostra preistoria, conoscenze molto marginali. E più passa il tempo e più le cose avvengono e queste cose vengono a emergere, vengono portate fuori, vengono manifestate, vengono concretizzate. Pensate, abbiamo un fenomeno astronomico in questi giorni che è il pianeta di Marte che è molto visibile, molto luminoso. Dicono gli astronomi che questo fenomeno era percepito 65 mila anni fa anche dell'uomo di Neandertal. Pensate, 65 mila anni, cioè cosa significa. Benissimo, di questo fenomeno non c'è traccia, non c'è memoria, non c'è ricordo di spavento. In realtà questo è venuto con il monoteismo. Ma pensate cosa significa anche questo fenomeno che è stato vissuto come una manifestazione, come un qualcosa di normale. E ne abbiamo anche delle prove recenti. Oppure quest'anno è stato scoperto in Germania una mappa delle stelle che risale a 38 mila anni fa. 38 mila anni fa l'uomo probabilmente, l'uomo di allora, sicuramente era decisamente più intelligente di un cristiano, perché di fronte alla bellezza del cielo, di fronte alla bellezza delle costellazioni, di fronte a quello che lui riusciva a vedere, non si poneva il problema del creatore, non si poneva il problema di chi l'avesse creato, non si poneva il problema dello scopo, ma giudicava la bellezza. E di questa bellezza, per cui provava amore, per cui provava attrazione, 38 mila anni fa comincia a descriverla, comincia a fare una mappa, comincia a catalogarla, cerca di crearsi uno strumento, lo crea lui, non lo chiede a un dio, nessun profeta glielo porta, ma con la sua intelligenza, con la sua astuzia, con la sua furbizia, con la sua capacità, con la sua osservazione, si mette a lavorare e comincia a disegnare una mappa stellare, 38 mila anni fa. Pensate che disastro, 2 mila anni fa qualcuno si inventa la Bibbia, si inventa un Gesù Cristo criminale, si inventa un dio creatore. Sicuramente qualche forma di perversione, di malattia, di follia si è introdotta in noi. Ma sappiamo benissimo che anche alcuni ascoltatori che fanno gli emuli o imitatori di Benigni ci vengono a raccontare delle grandezze che avrebbe portato il monoteismo in questi 2 mila anni, la solidarietà. in realtà anche l'antropologia ci viene a raccontare una realtà diversa. E noi appunto abbiamo scoperte sempre nuove anche fatte dell'antropologia e dice migliaia di anni fa anche le donne erano cacciatrici. Cioè significa che partecipavano all'attività degli uomini, non c'erano problemi, non erano confinate, ma in realtà davano il loro contributo, come sempre, alla vita della comunità. Non si portavano in grembo il frutto dello Spirito Santo, non aspettavano una provvidenza, non avevano una provvidenza, non pensavano che il dio monotista di essere sotto le cose, sapevano che dovevano agire e dovevano agire d'inteso. Pensate cosa significa per una cultura così antica, la capacità di percepire che la comunità è fatta da persone diverse, da sessi diversi e che assieme si può realizzare la comunità. Benissimo, la gente che è limitata alla cultura televisiva si viene a raccontare le frottole di un benigni che dice che soltanto con Cristo le cose sono avute, che prima c'era soltanto della merda. Scusate l'espressione, ma bisogna dirlo. E queste persone, queste comunità che sono sopravvissute, cosa significa, cosa rappresentano? Ma abbiamo anche qualcos'altro, c'è già una telefonata. Sì, sì, no? Sì, pronto? Pronto? Niente. C'è ripensato, comunque ricordo i numeri telefonici che sono 049 700 700 e 049 708 38. Allora, ma abbiamo anche scoperto sempre archeologiche che ci danno una dimostrazione, una profondità della nostra storia. Pensate che noi siamo sempre qui nell'andare a cercare segni biblici che non si trovano, scoperta archeologica della Bibbia che non si trovano, Gesù Cristo nella storia che non si trovano, di creatore nella storia che non si trovano. Benissimo, sempre una scoperta all'inizio di quest'anno una pietra cambia la storia. Siamo più vecchi di 400.000 anni. Cioè, rendetevi conto che noi pensiamo la storia, anche dell'umanità, la pensiamo sempre in visione biblica, come fosse già stata scritta, come noi sapessimo tutto e come ci fosse un qualcosa che noi già conosciamo. In realtà, questo ha condizionato anche, per quanto riguarda la cultura, ha condizionato tutto, perché noi pensiamo di sapere tutto in quanto la gente è pensata a ragionare come un libro sacro, come un testo sacro del monoteismo in cui trova tutte le risposte. Sì, pronto? 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 049-70-08-38 Sì, 700-8-38 Sembra che qualcuno voglia disturbare la trasmissione con telefonate, è stupido, va bene, questo non è importante. Allora, pensate, cosa significa questo? Significa appunto che le persone abituate addomesticate, istruite a pensare alla propria esistenza, della propria specie, della propria cultura, come un libro scritto, pensano di aver dato tutto acquisito. Poi basta una piccola scoperta, basta una pietra e la nostra storia invecchia di 400.000 anni. Ma pensate cosa sono 400.000 anni in più rispetto ai 2.000 anni del monoteismo, per cui tra l'altro il monoteismo è anche vissuto in zone molto limitate e contenute come i bassi fondi della Palestina. In realtà appunto significa che per centinaia di migliaia di anni gli uomini sono riusciti a produrre cultura e che questa cultura noi l'abbiamo cancellata e non andiamo neanche più a cercarla perché quante sono le persone che sono china sulla Bibbia a leggersi quello stupido libro del monoteismo invece di andarsi a cercare la bellezza o l'archeologia che noi abbiamo attorno. Basterebbe che le persone ripregassero e chiudessero il libro della Bibbia e cominciassero a camminare, a vedere il nostro ambiente, a vedere quello che ci circonda, quello che noi possiamo avere. E si renderebbe conto della grandezza, della lontananza nel tempo che della nostra storia. In realtà il monoteismo ha insegnato agli uomini a non osservare. Si tappano gli occhi, si tappano le orecchie, si chiudono i cuori e così di conseguenza la vita che c'è attorno sfugge e non viene più percepita. E questo appunto è una forma di addomesticamento che il monoteismo ha imposto, ha voluto e le persone sono convinte che l'unico modo per comprendere la vita, comprendere l'esistenza, seguire quello che c'è attorno, seguire la nostra storia, si andare a cercare a interpretare quelle stupide parole che troviamo un testo sacro. Pensate invece che per migliaia di anni, milioni di anni, la nostra statua cultura è stata quella di produrre qualcosa, di cercare di qualcosa, di costruire qualcosa, di manifestare quello che siamo. Pensate, come ci raccontano l'archeologia, che questi primitivi pensavano di fare cultura, si mettevano a comprendere quale pietro utilizzare. Ma non è che questo avvenisse per caso, perché in loro c'era un qualcosa di profondo, che era la volontà di conoscere, la volontà di percepire e la volontà di mettersi di fronte alla realtà del mondo, non con prevenzioni, non con scusanti, non con giustificazioni, ma soltanto comprendere. Cioè non avevano fede, non cercavano una verità. Quando trovavano una pianta, quando trovavano un fiume, quando trovavano un oggetto, il loro problema non era certo la verità, ma era comprendere e entrare in contatto con questa realtà. Quando trovavano altre persone, non le pensavano come create, ma le pensavano come persone con cui scambiare anche cultura, scambiarsi informazioni. E questo appunto diventa fondamentale. Pensate, ci sono esseri che accompagnano l'esistenza dell'uomo da moltissimo. E pensate a una cosa, c'è esempio, parliamo delle formiche. Descrivono la formica guerriera a sconfitti di dinosauri. Esisteva 100 milioni di anni fa ed è sopravvissuta senza mutamenti genetici o morfologici. È una specie più antica fra le 11 mila classificate e sulle Alpi vivono le rufe, sono circa 300 miliardi e puliscono i boschi noterendosi di sete nucivi all'uomo. Pensate cosa significa questo. Le formiche sulle Alpi sono 300 miliardi. Creano qualcosa, creano anche loro cultura, hanno anche loro una visione religiosa. Ma non hanno mai avuto un Gesù Cristo, non hanno mai avuto un Dio creatore, non hanno mai avuto una formica creatrice. Ma tutto quello che hanno fatto in 100 milioni di anni, hanno fatto con la loro capacità, hanno trovato una coesione, hanno trovato qualcosa che le abbia unite, sono qui da 100 milioni di anni e si sono accorte che equalizzandosi in comunità, condividendo le cose, riescono a vivere, riescono a avere una comunità. E noi siamo qui a cancellare milioni di anni della nostra esistenza, della nostra cultura, della nostra vita, pensando che un stupido libro, scritto male, malinterpretabile, che non significa assolutamente niente, possa dare le risposte alla nostra esistenza. Io torno a ripetere che le risposte alla nostra esistenza ce ne sono, ma solo nelle nostre capacità, sono nei nostri occhi, nei nostri cuori, nei nostri animi. Soltanto se noi faremo un'opera di liberazione o di discostamento di quello che noi osserviamo, di quello che noi vediamo, potremmo comprendere qual è la ricchezza che abbiamo attorno e perché stando ripiegati su un libro sacro perdiamo di vista queste cose. Noi dobbiamo essere consci che siamo delle divinità, che non abbiamo niente da cui assogettarsi e che non abbiamo niente che ci deve essere insegnato oltre che il concetto che l'uomo è libero. Ma che l'uomo è libero e che ha capacità di scegliere, di fare, noi come pagani, per chi si rifà la stragoneria, lo sappiamo da sempre. Ma in realtà, questa che noi diamo nel nostro bagaglio, nella nostra esperienza, in quello che abbiamo acquisito, è anche una scoperta scientifica che con il tempo sta emergendo e sta appunto venendo fuori, si sta manifestando sempre di più. Si sta appunto affermando senza problemi. Anche la scienza dice una cosa importante. La scienza dice che non hanno ragione i monotevisti, non l'hanno mai avuta e mai l'avranno. E' monotevismo solo una follia, una malattia, una perversione, un qualcosa che deve essere curato e qualcosa che deve essere eliminato. In realtà, la scienza, le scoperte scientifiche, la ricerca, dà ragione a quello che noi pagani sosteniamo da sempre. Prendo la recensione di un libro di un neurobiologo americano e dice che la vita ci insegna chi siamo. La vita. Cioè, questa è un'affermazione fatta da un neurobiologo. Non è un Dio creatore, non è la Bibbia. Noi non diciamo che è una fede. Lui dice, come neurobiologo, la vita ci insegna chi siamo. E di conseguenza vivere, realizzare la nostra esistenza, compiere gesti, impegnarsi, significa concretamente e manifestamente capire ed essere e insegnarsi la vita a cosa non possiamo. E dice ancora che natura e cultura parlano lo stesso linguaggio, usano lo stesso alfabeto per esprimersi dentro e attraverso il nostro cervello, le connessioni sinaptiche. E di conseguenza, se è una cosa fondamentale che la scienza ammette, considera, che l'uomo è un insieme e questo insieme non è scendibile. Di conseguenza, la natura e la cultura che è nell'uomo non può essere scissa, non può essere separata. Il pensiero non può essere separato dal cervello. E dice anche un'altra cosa, sempre questo neurobiologo, è che l'Io, essendo una funzione del cervello, viene creato come ogni altra funzione cerebrale. Le sinapsi sono la chiave di tutte le funzioni cerebrali, dunque anche dell'Io. Al tal caso, la cosa più importante è che esse costituiscono i magazzini dell'informazione e contengono cioè le nostre memorie. E la memoria è la parte essenziale per l'identità. Questa è un'affermazione testuale fatta da un neurobiologo. Ma dice anche chiaramente una cosa fondamentale, che non è scendibile il cervello dal pensiero, che l'Io non è scendibile dal nostro corpo e che noi siamo un corpo. E dice chiaramente che la capacità, l'importanza sono le sinapsi, le sinapsi sono i collegamenti cerebrali. Di conseguenza, la capacità dell'uomo, la potenza dell'uomo è la sua capacità di creare collegamenti, di creare interscambi, di essere connesso. Dice le sinapsi e le loro connessioni, dopo tutto, sono un movimento, relazioni, non una cosa, non una zona del cervello. Cioè la potenza di questa cosa non sta nella materia, non sta in un luogo, ma sta nel movimento. E la vita cosa è essenzialmente? È movimento. Usa i nostri corpi, usa la materia, ma è movimento. E anche qui è una cosa fondamentale, che tutto quanto appartiene alla materia e tutto quanto agisce tramite la materia. E finché il corpo esiste, finché esiste la nostra realtà fisica, queste cose sono legate assieme. Dopo non è più importante e non significa assolutamente niente. Dopo sono stati d'animo, stati dell'essere che non sono raggiungibili in quanto noi abbiamo un corpo e non ci creiamo problemi. Ma se noi vogliamo realizzare, diventare dei o realizzarci come divinità, dobbiamo vivere con quello che abbiamo. E dice appunto sempre questo neurobiologo che queste sinapsi agiscono sui comportamenti emotivi e ha scoperto che in gran parte sono guidate da una memoria inconscia, quella che ci fa fare un salto indietro alla vista di un serpente. Significa che non c'è solo un pensiero razionale, non c'è soltanto un pensiero immediato, ma esiste anche una capacità di questo cervello, di queste sinapsi, di comunicare con noi e di farci agire. E dice che le connessioni nel nostro cervello sono talmente tante, un milione di miliardi, da assicurare proprio per questo la libertà. Sono troppe perché il genoma, il nostro programma di base innato le possa controllare. E questa è un'affermazione importante, nel senso che dire soltanto dove c'è il molteplice, dove c'è il multiforme, dove c'è una varietà di cose, un'infinità di cose, noi abbiamo una possibilità enorme. La libertà. Perciò la libertà non sta nell'unico, non sta in una sola cosa, ma sta nella ricchezza, nella moltiplicità, nella diversità delle cose, nella varietà delle cose. Solo in questo, cioè nella moltitudine, nel molto, nei molti, ci sta la libertà. E questa è un'altra scoperta scientifica. Loro la mettono all'interno del cervello, all'interno delle connessioni, benissimo, questo lo fanno e questo appunto è importante. Ma c'è un'altra cosa da aggiungere che è fondamentale. Il fatto che loro dicano questo significa anche che deve essere tradotta nella vita, nella concretezza, nell'immediatezza, che è quella proprio fondamentale della moltitudine. Per questo noi abbiamo un richiamo continuo a un pantheon, un'idea che è molteplice, che è multiforme, che è vario, che è infinito ed è che è in continuo mutamento e che non è statico. Perché appunto solo la varietà, solo la molteplicità delle cose, solo molte cose, ci permettono di essere liberi. Solo molti dei, molti uomini che vivono e dagiscono permettono la libertà. E questo è un assediamento fondamentale. In realtà con il monoteismo si è introdotto un concetto molto più negativo, negativo al massimo, che è quello della sottrazione delle cose, cioè che dice soltanto quando milioni, e lo dice il monoteismo, quando milioni di persone si rifanno all'unico Dio, all'unico principio, all'unico valore, si realizza la fede. E questo appunto lo fanno proprio perché vogliono distruggere la vita. Di conseguenza noi possiamo andare tranquilli e dire che quello che il paganesimo conosce, che quello che è il paganesimo innato, sono tutte quante cose che vivono e che vengono manifestate nell'esistenza. Ma torniamo a ripetere questa frase di un aerobionico. Le connessioni del nostro cervello sono talmente tante, un milione di miliardi, da assicurare proprio per questo la libertà. Sono troppe perché il genoma, il nostro programma di base innatto, le possa controllare. E di conseguenza pensate cosa significa anche che il nostro corpo si realizza così. Cioè noi abbiamo la nostra vita, quello che ci fa vivere, che tende a sfuggire al monotono, all'unico, ma che è ben conscio che soltanto con la molteplicità anche fisica si può permettere la libertà e si può permettere la varianza. In realtà quando i monoteisti propongono la loro fede, quando le persone si rassegnano al monoteismo, in realtà danneggiano la loro esistenza, danneggiano il loro corpo, rinunciano alla loro vita, rinunciano a comprendere il loro corpo, rinunciano a comprendere le loro passioni. Il monoteismo non si spiega il fatto che un uomo possa avere dei pensieri contrastanti, dei desideri contrastanti, possa avere passioni diverse o cose che sono anche diverse e che sono in contrasto. E noi lo sappiamo, sappiamo che dentro di noi sono presenti, si manifestano, vivono con noi infiniti dei. E questi dei sono appunto quelle che ci promettono la libertà, in quanto ci offrono infinite possibilità. E appunto noi pagani lo diciamo sempre, soltanto le infinite possibilità permettono di realizzarsi, solo le infinite possibilità danno la possibilità di ognuno di realizzare la propria esistenza, il proprio percorso. E per questo noi ribadiamo il concetto del politeismo, cioè del poli, del molto, del più. Perché questo noi diciamo sempre aggiungiamo nuove divinità, proponiamo nuove divinità e combattiamo sempre questo concetto che è l'uno. Perché l'uno è pericoloso, perché l'uno non esiste. L'uno non appartiene alla vita, non appartiene alla nostra esistenza, non appartiene alla nostra cultura. L'uno si può affermare, l'uno si può imporre, soltanto nella concezione, nella visione, appunto di dominio, di imposizione. E questo appunto è quello che vogliono fare i monotesti, ma appunto tutta la nostra cultura, tutta la nostra storia ci dice appunto il contrario, ci dice appunto che il molteplice è il molteplice e quello che ci offre di più per la nostra esistenza. E questo appunto è un discorso iniziale che volevo fare. Faccio una piccola pausa perché poi cambiamo registro, parleremo di un tema che di solito sconvolge molto i monotesti che è la pedofilia cattolica e cristiana. Nel frattempo appunto una piccola pausa e ricordo i numeri telefonici per chi vuole intervenire che sono 049 700 700 e 049 7038.